Ciao ragazzi, figata eh? Allora, io seguo come tutti voi dei personaggi su internet dai quali si impara sempre qualcosa. Questo personaggio di cui non faccio il nome e non chiedetemelo perché non mi va di sputtanare la gente, vi dico semplicemente la stronzata che ha fatto. Questo è un digital marketer che sta negli Stati Uniti, quindi nessuno di italiano. Anche perché in Italia prendono tutti spunto dagli Stati Uniti otto anni dopo. Ok, quindi questo è un personaggio che seguivo volentieri, diceva cose intelligenti più o meno, fino a che a un certo punto non ha cominciato a parlare degli ads su Facebook e ha detto di provare ovviamente a espandere l'utenza della propria promozione anche alle grandi quattro potenze. Secondo lui le quattro grandi potenze sono gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra e l'Australia. E l'Europa? Dove me la lasci? Me la lasci fuori? Non c'entra un cazzo l'Europa, giustamente tu stai negli Stati Uniti, manco sai cos'è cos'è Parigi. Va bene, allora non voglio generalizzare chi ha voluto capire ha capito. Ieri, letteralmente ieri, per quello che sto ancora così gasato perché mi ha fatto proprio così qua, ieri ho guardato un suo video sui digital trends del 2017 e oltre a una marea di stronzate ovvie che ha detto riciclate, riciclate, riciclate. E poi ha detto anche pensate che ci sono degli sviluppatori di giochi, di app che possono arrivare a guadagnare anche 30-40 mila euro al mese e pensate che stanno in paesi come la Svezia e la Germania che per capire dove stanno dovete cercarli sulla mappa. Basimento totale mi è cascato giù così, ho premuto quel pulsante unsubscribe su YouTube all'istante, sono andato sulla sua mailing list e mi sono cancellato da qualsiasi sua risorsa possibile e immaginabile perché tu, esperto, soprattutto sotto, c'è una marea di persone che ti seguono, ti dicono God bless you, bla bla bla, sei un mito, sei un grande. Questa volta l'hai fatta grossa, ti sei beccato un paio di commenti di gente che ti piavere il culo. Cioè, come fai a dire che non sai dove sta la Germania? Che devi prendere la mappa? Cioè, io posso capire che non sai individuare esattamente a memoria dove sta la Lituania? Posso capire che non sai esattamente al millimetro dove sta l'Azerbaijan? Ma la Germania, come fai a dire che questi sviluppatori in paesi come la Germania? Mica stai a parlare del Burundi? Cioè, stai a parlare della Germania? Sei proprio una capra ignorante, quindi meriti di morire nel tuo buio del marketing proprio. Ok ragazzi, quindi occhio a questi personaggi, occhio a quello che dicono i vari guru che si autoproclamano guru. Questo tra l'altro non è che si è proprio autoproclamato, qualcosina l'ha fatta. È anche vero che quando hai fatto qualcosa nei primi anni 2000-2007 hai avuto un pochino più di culo da questo punto di vista, perché eri uno dei primi, giusto? Ok, perfetto. Quindi attenti ai guru che si autoproclamano ragazzi. Ci sono tantissime persone che leggono tre libri e poi spiegano la vita attraverso quello che hanno letto, senza averlo vissuto mai in realtà. Ok? Ci sono troppe persone che cercano di fare i soldi spiegandoti come si fanno i soldi, senza averli mai fatti con le vie tradizionali. Ok? Attenzione, informatevi su chi seguite, informatevi su che background hanno le persone che seguite, informatevi da quanti anni sono attivi. Oggi su web è relativamente semplice nel giro di un anno costruirsi una solida identità che vi fa sembrare degli esperti fantomatici, guru, maghi, sciamani in qualcosa. Ok? Quindi guardate da quanti anni esistono queste persone. Ok? Se hanno fatto un percorso, se queste persone vi stanno rifilando la solita roba accademica, oppure che hanno letto da qualche parte, per sentito dire, oppure se hanno attraversato il calvario, se hanno camminato con la croce addosso e hanno sventolato la bandiera alta del business, ce la farò fallisco, ce la farò fallisco, ce la farò fallisco. Ok? Quindi mi raccomando ragazzi, in tutti i settori, che sia il digital marketing, la creatività, il 3D, la grafica, la fotografia, la formazione, state veramente, ve lo dico col cuore, raga, state attenti, chi diventa il vostro punto di riferimento. Spesso il punto di riferimento che avete può aiutarvi, portarvi avanti una cifra lontano in pochissimo tempo, ma in altre occasioni, e accade molto spesso, può anche distruggervi e portarvi giù. Proprio così, proprio giù. Vi trascina giù. Ok? Quindi può portarvi giù e vi trascina proprio in una situazione dalla quale farete molta fatica a riuscire fuori. Ok? Quindi mi raccomando, studiamo la geografia, così almeno sappiamo dove sta la Germania, così quando diventiamo dei guru almeno possiamo non sparare le cazzate. Ciao ragazzi, spero che questo tipo di appuntamento vi piace, ci vediamo alla prossima. Ciao!